La procura ha dato il via libera al patteggiamento chiesto dalle tre maestre dell'asilo privato di via Toscana accusate di aver alzato le mani sui bambini tutti cinesi tra i 3 e i 6 anni. A 8 mesi dall'arresto di due e dalla denuncia di un'altra per maltrattamenti è stato dunque deciso il destino giudiziario. Le pene più pesanti per Zheng Killian un anno e 6 mesi e per Hong Ping Ping un anno e 4 mesi, finiti ai domiciliari. Un anno e 2 mesi invece per Yuan Yiding rimasta a piede libero. Nei prossimi giorni sarà il Tribunale di Prato a ratificare o meno la richiesta di patteggiamento. A far luce su ciò che avveniva nei locali del circolo ricreativo Marco Polo adibiti ad asilo furono all'inizio di quest'anno gli uomini della squadra mobile a cui un cinese aveva riportato le confidenze ricevuti a sua volta da una connazionale collega delle tre maestre finite nei guai. Confidenze che facevano riferimento ai metodi spicci delle insegnanti per tenere a bada i bambini, bacchettate, spintoni, strattoni, qualche schiaffo, punizioni varie. Circostanze confermate dalle telecamere nascoste che furono immediatamente autorizzate per verificare il comportamento delle insegnanti. Il 31 gennaio scattarono gli arresti chiesti al giudice per le indagini preliminari dal sostituto Laura Canovai. Metodi spicci, quelli documentati dagli investigatori, che in Cina sarebbero la norma, tanto che una delle arrestate durante l'interrogatorio di garanzia disse al giudice di non essere a conoscenza del fatto che in Italia le bacchettate ai bambini non sono consentite. Il capo di imputazione è rimasto quello originario dopo la decisione del riesame di non riqualificarlo nel meno grave abuso dei mezzi di correzione, così come chiesto dalle difese. Quattro alle famiglie che hanno presentato querela nei confronti delle maestre dell'asilo dopo aver visto le immagini delle telecamere nascoste e aver riconosciuto i rispettivi figli come vittime di maltrattamenti.